Abbiamo disputato una partita dove abbiamo affrontato la Grara con grandissima pazienza e questo credo è uno degli aspetti più positivi di oggi. La squadra è sempre stata abbastanza regolare, anche se soprattutto offensivamente in alcuni momenti poco lucida e poco determinata a concretizzare dei vantaggi che avevamo costruito, però nel complesso di positivo è il fatto che non ci siamo mai innervositi, non ci siamo mai fatti prendere dall'ansia e soprattutto grande è una difesa che va rimarcata perché subire 63 punti contro il migliore attacco del torneo che viaggia a 81 di media sicuramente è un aspetto positivo, un attacco che anche oggi ha dimostrato in alcuni momenti di avere il talento per fare anche canestri difficili e quindi ripeto, una partita dove difensivamente sono molto contento, offensivamente in alcuni momenti potevamo fare meglio, però nel complesso una partita vinta credo con la giusta maturità. Avevamo messo attenzione sul discorso difensivo e sul discorso che loro vanno molto bene al rimbalzo, ne abbiamo concessi solo sei e quindi da questo punto di vista ripeto sicuramente l'attenzione e l'attitudine difensiva è stata ottimale. C'è stata una sequenza di un canestro facile e sbagliato, una transizione difensiva dove siamo stati poco attenti, c'è stato un errore, rimbalzo offensivo, una serie di due o tre errori consecutivi in pochissimi secondi, credo era giusto e opportuno chiamare timeout. Il rischio era quello di una partita che andava a piccolo trotto e non volevo arrivare nei minuti finali poi con la pressione di dover vincere una partita perché è chiaro, queste sono le partite da giocare e le peggiori perché l'avversario non ha alcuna pressione e tra l'altro chiaramente va riconosciuto a Nardò di aver fatto un'ottima partita nonostante le assenze e per alcuni versi il loro quintetto nato dalla necessità in alcuni momenti ci ha anche messo in difficoltà perché oggettivamente giocare con la torre da finto 5, Stojanovic c'è il finto 4, non era semplice da interpretare e quindi ripeto, credo da quel momento poi dal punto di vista dell'attenzione siamo andati meglio però nel complesso credo la partita è sempre stata fatta con grande attenzione. Da questo punto di vista siamo stati bravi, poi difensivamente nell'ultimo quarto abbiamo subito solo 10 punti quindi abbiamo sicuramente creato i presupposti per non mettere Nardò nelle condizioni di sprigionare il proprio talento perché oggettivamente ha due o tre giocatori che hanno la possibilità di fare canestre difficili, canestre che magari nella prima parte di gara sono più efficaci minuto dopo minuto un po' perché poi la stanchezza un po' perché poi si va nel minuto finale quindi anche la pressione anche per loro di mettere alcuni canestri è cambiata e ripeto per quanto mi riguarda siamo stati bravi. Semplicemente la botta in quel terzo tempo è atterrato male quindi poi poteva rientrare però la squadra stava andando bene quindi non l'ho rimesso dentro ma era a disposizione. Sicuramente per noi è un risultato positivo però credo che adesso abbiamo la possibilità perché ce la siamo meritata di pensare al nostro percorso e quindi dobbiamo essere bravi e concentrati sulle nostre partite sapendo che facendo le cose per bene e nella maniera giusta abbiamo la possibilità di mantenere questo vantaggio anche se il campionato è ancora bello che è lungo. Grazie